britannico muore il 9 giugno 1870. Per conoscere meglio Dickens basta leggere i suoi libri, nei suoi libri c'è un po' tutto, c'è la fortuna della sua famiglia e poi c'è l'improvvisa sfortuna, c'è la bella Londra ma c'è anche la Londra malfamata, se si vuole capire qualcosa allora basta leggersi Oliver Twist, basta leggersi David Copperfield, però poi se si vuole capire l'ironia per esempio di Dickens allora bisogna leggere il Circolo Pickwick, il grande libro che l'ha consacrato e bisogna ricordare che al tempo quei libri uscivano a puntate sui giornali, giornali che lui è anche diretto, ha fatto un po' di tutto, a 15 anni si è trovato a lavorare in fabbrica perché appunto la sua famiglia viveva un momento molto difficile ma poco dopo sembrava che facesse l'avvocato perché era stato considerato molto abile in questo mestiere da chi l'aveva accudito in quel tempo, poi però aveva scelto di fare la stenografia, pensate gli piaceva di più stenografare durante i processi in tribunale perché gli piaceva raccontare delle storie e iniziare a fermarle sulla carta che poi è quello che ha fatto nel resto della sua vita, però da lì passa un po' al giornalismo e poi soprattutto alla scrittura, la grande scrittura che ci restituisce anche dopo così tanto tempo la freschezza della Londra del tempo, una Londra che però è senza tempo, laddove le figure sono molto accentuate, c'è anche qualcuno che dice che ha un po' inventato il Natale Dickens perché effettivamente nel suo Christmas Carol ci sono molte delle cose che portano al Natale come lo stiamo vivendo oggi, con tutte anche le contraddizioni, il bene e il male, da una parte la felicità e la gioia e dall'altra chi la gioia vuole togliercela, rileggendolo però si trova anche un'altra cosa, il senso del tempo, cioè nelle sue pagine lui riusciva a farci capire lo scorrere del tempo perché quando il capitolo si allungava, quando la descrizione si allungava ecco a lui tutto questo serviva per farci capire che stava passando del tempo, in un'epoca in cui il tempo non sappiamo più viverlo se non di corsa, forse rileggere quelle pagine può aiutarci a capire anche cosa siamo e perché siamo diventati questo. Grazie a tutti.